Nel momento del congedo da questo mondo, affidiamoci al Padre e facciamo un esame di coscienza. Così, nell'Omelia della Messa del Mattino, celebrata a casa Santa Marta, Papa Francesco ha commentato il discorso di Gesù prima della Passione, con il suo congedo agli Apostoli, e il congedo di San Paolo a Mileto prima di andare a Gerusalemme. Così ha riflettuto su cosa significhi dire addio per un cristiano. Nella nostra vita ha osservato ci sono tanti congedi, piccoli e grandi, e c'è anche tanta sofferenza, tante lacrime in alcuni di loro. Pensiamo a quanti sono costretti a fuggire dalle persecuzioni. Pensiamo oggi, quei poveri Rosigna dello Miamar, al momento di lasciare la sua terra per fuggire, della persecuzione, non sapevano cosa gli accadeva. E da me si sono in barca, lì. Arrivano a una città, gli danno acqua, cibo e andatene via. È un congedo, tra l'altro. Oggi accade questo congedo esistenziale grande. pensate al congedo dei cristiani e dei giazzidi che pensano di non tornare più alla sua terra, cacciati via delle sue case. Oggi, cosa lascio? Sia Paolo che Gesù, tutti e due, in questi brani, fanno una sorta di esame di coscienza. Io ho fatto questo, 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 questo. Io cosa ho fatto? Ma ci fa bene immaginarmi in quel momento. Quando sarà? Non si sa. Ma ci sarà. Il momento in quale a dopo, a presto, a domani, a rivederci, diventi addio. Io sono preparato per affidare a Dio tutti i miei, per affidarmi me stesso a Dio. Per dire quella parola che è la parola dell'affidamento del figlio al padre.